ho appunto 10 euro io sono la maglietta britannica ma Marco ma devo ripiare ragazzi ragazzi lo tolzuale a 1.50 tutte e due ma marzo ma marzo marzo se pia 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 se non portiamo più fuori dai guardate un altro parite destri va vabbè stiamo davvero non volete il gioco a nero